Ciao a tutti e bentornati! Nel video di oggi vi faccio vedere in modo molto sintetico come viene introdotto il concetto di funzione hamiltoniana a partire dal formalismo lagrangiano. Diciamo che io mi riferirò in parte anche al mio video precedente sul teorema di Noether, quindi se qualcosa risultasse poco chiaro potete sempre andare a rivedervi quel video per chiarirvi le idee. Detto questo, andiamo subito nella nostra lavagnetta. Per prima cosa vorrei riprendere brevissimamente il concetto di lagrangiana che abbiamo visto nel precedente video sul teorema di Noether. Abbiamo visto che se abbiamo ad esempio un sistema fisico molto semplice come una massa m che si muove lungo una sola direzione, che denotiamo con la lettera q minuscola, allora abbiamo che la lagrangiana di questo sistema ma si può indicare con questa lettera L maiuscola e questa sarà una funzione della q e della sua derivata rispetto al tempo che indichiamo con q punto. E abbiamo che la lagrangiana di questo sistema monodimensionale è m mezzi per q punto al quadrato meno un potenziale che è un potenziale di una forza conservativa. Quindi ci immaginiamo che su questa massa m possa agire anche un campo di forze conservativo a cui è associato un potenziale v di q. Ora noi notiamo che le equazioni del moto nel formalismo lagrangiano sono tipicamente del secondo ordine nel tempo, no? Abbiamo visto ad esempio che in questo caso viene fuori che m per q doppio punto più dv di q su dq è uguale a zero. E quindi abbiamo appunto che l'equazione del moto è del secondo ordine, cioè dipende da una derivata seconda della posizione q. L'idea che c'è alla base del formalismo hamiltoniano invece è quello di avere delle equazioni del moto che siano del primo ordine nel tempo. Per fare questo andiamo avanti con questo esempio semplice di questo sistema fisico e proviamo a capire proprio come costruire la funzione hamiltoniana. Per prima cosa introduciamo una nuova variabile dinamica che indichiamo con la lettera p. Questa variabile p è detta momento coniugato rispetto invece alla coordinata q. In particolare la p è definita come la derivata della lagrangiana stessa rispetto alle q punto. E naturalmente quello che si ottiene facendo questa derivata, nel nostro caso semplice bisogna derivare questo pezzo qua e quello che si ottiene è m per q punto. Come secondo passo si definisce proprio la hamiltoniana e lo si fa mediante un tipo di trasformata particolare che è la trasformata di Legender della lagrangiana L. Però adesso al di là dei nomi di fatto si definisce la hamiltoniana e la indichiamo con la lettera h che sarà una funzione di q e di p come il prodotto p per q punto meno la lagrangiana. Nel nostro caso semplice verrà fuori che la p è m per q punto quindi verrà m per q punto per q punto di nuovo quindi q punto alla seconda meno la seconda meno la lagrangiana quindi meno m mezzi per q punto alla seconda più v di q che è uguale a un mezzo m per q punto alla seconda più v di q. Solo che questo un mezzo m per q punto alla seconda si può scrivere anche come 1 fratto 2m per m q punto alla seconda che però non è altro che p alla seconda fratto 2m quindi alla fine la nostra hamiltoniana viene fuori essere uguale a p alla seconda fratto 2m più v di q ed è così che si introduce questa hamiltoniana. Adesso però dobbiamo capire se effettivamente si può raggiungere il nostro obiettivo cioè quello di avere delle equazioni del moto che siano del primo ordine nel tempo. Quindi dobbiamo avere un terzo passo. Il terzo passo è quello di introdurre le cosiddette parentesi di Poisson cioè date due funzioni a e b che da un punto di vista tecnico agiscono sullo spazio delle fasi che è proprio lo spazio in cui esistono le grandezze p e q. Date quindi due funzioni a e b di questo tipo noi definiamo la parentesi di Poisson così usiamo una parentesi graffa in cui mettiamo a e b e le definiamo in questo modo. Questo è uguale a derivata di a rispetto a q per derivata di b rispetto a p meno derivata di b rispetto a q per derivata di a rispetto a p. A questo punto finalmente abbiamo le equazioni del moto hamiltoniane e si possono scrivere in questa forma quindi mettiamolo come punto numero 4. Abbiamo cioè che q punto è uguale alla parentesi di Poisson tra q e h e p punto è uguale alla parentesi di Poisson tra p e h. Queste sono le equazioni del moto di Hamilton e questi erano i quattro passi attraverso cui è possibile costruire proprio questo formalismo hamiltoniano. Nel nostro caso come diventano queste equazioni abbiamo che q punto è uguale alla parentesi di Poisson di q e h quindi come primo pezzo di questa parentesi abbiamo dq su dq che fa 1 poi come secondo pezzo abbiamo dh su dp quindi dh su dp qui abbiamo dh su dq quindi meno dh su dq solo che poi come ultimo pezzo la coordinata p non può essere funzione della coordinata q quindi qui avremmo dq su dp e questo è uguale a 0 quindi qua viene per 0 quindi questo secondo pezzo in realtà non c'è e quindi come q punto abbiamo solo la derivata di h rispetto a p e quanto vale la derivata di h rispetto a p beh guardiamo qui derivando questo rispetto a p esce 2p diviso 2m quindi p diviso m. Adesso calcoliamoci la p punto e facendo gli stessi passaggi che abbiamo appena visto abbiamo che naturalmente qui viene la parentesi di Poisson ph e quello che si ottiene è che rimane meno la derivata della v ok quindi rimane solo il pezzo associato a questa v meno la derivata della v rispetto alla q e queste sono le nostre due equazioni del moto hamiltoniane stavolta e sono effettivamente del primo ordine nel tempo e naturalmente queste sono assolutamente equivalenti alle equazioni del moto lagrangiane quelle mq due punti uguale a meno dv su dq possiamo interpretare questa hamiltoniana h come generatrice delle traslazioni temporali cioè come generatrice del moto in pratica la hamiltoniana provoca il moto perché per vedere come varia nel tempo la coordinata q ad esempio la si prende e la si mette proprio in parentesi di Poisson con la hamiltoniana e idem anche per la coordinata p quindi per studiare l'evoluzione di una coordinata la si mette proprio in parentesi di Poisson con la hamiltoniana in questo senso la hamiltoniana è la generatrice del moto cioè è una funzione che sposta le condizioni iniziali nel tempo di una certa quantità come ultimo passo cerchiamo di separare l'esempio particolare da ciò che invece ha validità generale quindi scriviamo adesso qua in mezzo proprio le equazioni del moto hamiltoniane in una forma sempre valida la versione per le q punto l'abbiamo già vista cioè che q punto è uguale a dh su dp per quanto riguarda la p punto questo è sempre uguale a meno dh su dq quindi diciamo prendiamo queste come le equazioni del moto hamiltoniane generali naturalmente in questo senso le variabili dinamiche p e q non rappresentano più solo dei singoli valori ma possono rappresentare delle componenti di oggetti a più dimensioni quindi possiamo sempre riscrivere queste equazioni del moto utilizzando gli indici quindi in realtà abbiamo che q punto i è uguale a dh su dpi e che p punto i è uguale a meno dh su dqi in ultimo vi faccio vedere da un punto di vista molto sintetico che anche queste equazioni possono essere derivate da un principio di minimazione abbiamo che nel nostro caso però l'azione non sarà più una funzione solo della q ma sarà una funzione della q e anche della p e un'azione di questo tipo si può scrivere come integrale tra ti e tf in dt sempre della lagrangiana che però questa volta scriviamo utilizzando la miltoniana quindi abbiamo pi q punto i meno h che è sempre h di q p e adesso imponendo sempre che la nostra piccola variazione dell'azione sia uguale a 0 si ottiene alla fine che questa variazione dell'azione è data semplicemente da un termine arbitrario più l'integrale tra ti e tf sempre in dt di che cosa? Abbiamo la nostra piccola variazione della variabile pi e poi qua dentro abbiamo proprio q punto meno la derivata di h rispetto a pi e poi abbiamo meno la nostra piccola variazione della q invece per la nostra p punto più la derivata di h rispetto alla q da qua si vede subito che se noi vogliamo avere che questa variazione dell'azione è uguale a 0 quindi abbiamo la nostra minimazione allora questo deve essere uguale a 0 e anche questo deve essere uguale a 0 perché tutto il resto è arbitrario ma naturalmente questo ci porta immediatamente alle due equazioni del moto quindi abbiamo anche la possibilità di ricavarle da un principio di minimazione esattamente come col formalismo lagrangiano bene spero che fosse tutto chiaro se vi è rimasto qualche dubbio mi raccomando scrivete un commento detto questo io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video